Sant'Eusebio ci aveva visto davvero lungo. Mai intuizione pastorale fu più geniale della sua che portò il culto di Maria, la madre del Signore, in territori dove era presente un culto pagano fondato su divinità della fertilità e della maternità. E tramite una figura come Maria, madre appunto, riuscì ad avvicinare la figura immensa di Cristo, il figlio suo, a popolazioni che altrimenti non l'avrebbero accettata. Il santuario di Europa, con il suo culto fortemente radicato, è proprio testimonianza dell'efficacia di questo operato di Sant'Eusebio. E proprio al santuario di Europa, il vescovo di Biela, Monsignor Roberto Farinella, in occasione del pellegrinaggio della diocesi, della processione, che ha riportato la sacrificia della Vergine Bruna all'antico sacello e dell'inizio dell'anno pastorale, ha voluto ancora una volta insistere sul vero ed autentico significato del sacramento dell'eucaristia, tramite Maria verso Cristo, quindi, come Sant'Eusebio. L'occasione è stata anche quella della concomitanza con il congresso eucaristico di Matera, a cui peraltro rappresenta una delegazione biellese che ha assistito ai lavori del congresso e alla Santa Messa presieduta dal Santo Padre Francesco. Ma a Tonio Mabiella, l'intervento nell'omelia del vescovo Roberto è stato, a mio avviso, così significativo e tagliente che merita di essere riportato tale e quale. Così dice il vescovo, Umanamente si può far fatica a credere che nell'ostia e nel vino consacrati ci sia realmente il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Eppure, nella nostra fede è la realtà più vera. Gesù è realmente presente con il suo corpo e il suo sangue e con la sua dignità nel pane e nel vino. Quel corpo del Signore non è muto, non è inerte come un idolo. Vede, parla, ascolta, consegna tutto se stesso a chi vuole accoglierlo e continua a comunicare il suo Vangelo di amore. Parla di liberazione, di pace. Sta con noi. Nell'Eucaristia Gesù viene a dimorare in noi e noi dimoriamo in Lui ed insieme viviamo la stessa vita divina. Quando siamo nella fatica, nel dolore, nelle prove, nell'angoscia, inginocchiamoci dinnanzi a Gesù l'Eucaristia, adoriamolo con tutto il nostro cuore e faremo esperienza di essere rigenerati da Lui. L'Eucaristia rigenera e dà vita. E benedica Dio omnipotente, Padre e Filio e Espíritu Santo. Grazie. Grazie.